Lei con la sua solita ironia ha detto che il ministro Valditara sulla scuola si distrae, distratto, perché? È completamente distratto, il ministro Valditara segue solo ed esclusivamente la sua linea, il ministro Valditara ha detto che non sapeva nulla del fatto che ci fossero dei docenti idoni a un concorso e che si sarebbe interessato, si è interessato a tal punto che ha bocciato un mio emendamento nel decreto legge sulla pubblica amministrazione proprio sui docenti che hanno vinto un concorso, tra l'altro ci sono emendamenti presentati, c'è una mia proposta di legge, non solo, ma ha bocciato emendamenti sugli ingabbiati, si è distratto su tutto, il ministro Valditara farebbe bene a stare attento a quello che gli arriva anche dall'opposizione, perché magari potremmo aiutare davvero, è in grosse difficoltà, oggi dice una cosa, domani dice il contrario di quello che ha detto oggi, per cui ministro, la prego, si vada a leggere, pure la sera quando è a letto, invece di leggere il giornale, di leggere un libro, magari leggere qualche proposta dell'opposizione, non ho visto mai che riusciamo a dargli una mano. La cosa più urgente e su cui bisognerebbe lavorare? Ce ne sono tante di cose urgenti per quanto riguarda la scuola, posso dire che in commissione stiamo avendo dei problemi, perché molti lavori cominciati tempo fa si sono arenati per l'indisponibilità del governo a venire in aula, in questo caso del ministro del lavoro Calderone, su ben due lavori, uno è il lavoro sportivo e un altro è una risoluzione sul mondo dello spettacolo, siamo arenati perché il ministro Calderone non trova il tempo di venire in commissione. Per la scuola? Beh, per la scuola ci sarebbe tanto da dire, ci sono gli ingabbiati che aspettano, ci sono i docenti laureati all'estero che aspettano di capire se il loro titolo è riconosciuto, perché questo dice la legge, va validato entro 120 giorni, quindi fioccano i ricorsi, i ricorsi amministrativi che il popolo italiano pagherà, perché il ministro Valditare ha ben pensato di dare un appalto di tre anni a una società per validarli, ecco, 120 giorni, tre anni, ha confuso i tre mesi con i tre anni, ma ci sono un sacco di cose da fare sulla scuola, veramente sono tante, 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 ci sarebbe da ridiscutere ci sarebbero gli invalsi, ci sarebbe da ridiscutere la buona scuola, ci sarebbe da ridiscutere l'alternanza scuola-lavoro, insomma ci sarebbero da ridiscutere un sacco di cose, chi sa, se il Valditare ce lo farà fare mai.